Buonasera e buon anno al leader della Lega Matteo Salvini. Buonasera a te Paolo e buona fortuna e buona salute alle amiche e agli amici e sono sempre di più e ne sono contento che sono davanti al televisore. Grazie. Ascoltate il commissario Arcuri, ha parlato del piano dei vaccini, che ne pensa? Ma mi sono preso alcuni appunti. Sì, innanzitutto due proposte concrete che la Lega e il centrodestra hanno portato in Parlamento. Numero uno, ci sono in Italia, e domani mattina aprono, 18.000 farmacie con 60.000 farmacisti. Ogni giorno 4 milioni di italiani entrano in una farmacia. Su proposta della Lega e del centrodestra, nella manovra economica, è prevista la possibilità di vaccinarsi anche in farmacia sotto controllo medico. Tu fai il calcolo di quante vaccinazioni potrebbero essere fatte ogni giorno, centinaia di migliaia. Quindi chiedo al commissario Arcuri, se ancora sintonizzato, di ascoltare questa proposta che arriva da noi, arriva dai farmacisti, che potrebbe aiutare milioni di italiani. Seconda riflessione. I disabili, dalle vostre tabelle, purtroppo anche dalle tabelle del governo, ci sono 6 milioni di italiani dimenticati che dovrebbero essere fra i primi ad avere questa tutela e non fra gli ultimi, penso ai disabili, ragazzi e ragazze, giovani e anziani che hanno bisogno di una protezione e di una tutela in più. Ultima riflessione dopo queste due proposte concrete per aiutare gli italiani. Il signore che avete avuto ospite è stato in questi mesi commissario alle mascherine e non arrivavano le mascherine, commissario alla scuola e lascio giudicare agli studenti e agli insegnanti che oggi dovevano tornare in classe e che non sono tornati in classe se il commissario alla scuola, col ministro alla scuola, hanno fatto bene o hanno fatto male. E' commissario all'Ilva di Taranto, dove ci sono migliaia di operai senza una risposta per quello che riguarda il loro futuro e poi commissario ai vaccini. O uno è un genio che si occupa di mascherine, di ospitali, di respiratori, di scuola, di acciaio e di vaccini oppure c'è qualcosa che non funziona. Cos'è che non funziona? Beh, la scuola. La scuola è la spina d'ospedale. No, no, quello lo so. Cos'è che non ha funzionato? E agli atti del duo Azzolina-Arcuri ci sono 461 milioni spesi per i banchi con le rotelle quando le scuole non hanno i termoscanner o il ricambio dell'aria in classe. Quindi questo evidentemente non funziona. E soprattutto non hanno i trasporti sicuri, Salvini. Soprattutto non ci sono i trasporti sicuri, cioè non ci sono gli autobus per puntare sti cazzo di ragazzi da casa a scuola. Guarda, ti batto le mani, tranne rare eccezioni, ti faccio l'esempio di due province autonome dove la scuola è gestita dalle province Trento e Bolzano. Oggi i ragazzi a Trento e Bolzano, perché le decisioni sono della provincia, gli autobus sono stati aumentati dalla provincia, 400 autobus in più a Bolzano, i ragazzi sono andati in classe. Perché laddove ci sono sindaci o governatori in gamba si fa. Laddove decide il governo che non mette i soldi per gli autobus, fanno bene Zaia e gli altri governatori a dire per tutela della salute dei miei ragazzi, allora aspettiamo perché non possiamo mandare al macello milioni di studenti o di insegnanti. Ecco, prendere sotto gamba la scuola significa non aver capito niente di quanto i nostri ragazzi siano il nostro futuro e di quanto i nostri insegnanti siano straordinari. Senta una cosa, ma questo cambio all'assessore della sanità in Lombardia, gallera via e dentro Maria Letizia Moratti che è stata sindaco, che ha fatto l'expo eccetera, cosa significa? Ma non do giudizi sulle persone perché non sono mai meriti o colpe di nessuno e quindi sicuramente non è Giulio Gallera ad avere responsabilità più o meno di altri. Sono contento perché domani parte in regione Lombardia una squadra ancora più forte che non riguarda solo la sanità. Verrà istituito un grande assessorato alla disabilità, famiglia, ai bimbi, al volontariato. A differenza di quello che fanno gli altri partiti, la Lega ritira da Roma due persone che hanno fatto il ministro e il sottosegretario di governo che lasciano il Parlamento per tornare a occuparsi della loro terra e dei loro cittadini. Quindi il 2021, per quello che ho lavorato fino a cinque minuti fa prima di venire in diretta da te e la squadra è chiusa, te lo posso dare in anteprima, come il 2020 è stato per la Lombardia e per tanti cittadini italiani l'anno della sofferenza, della morte, della fatica, della paura. Il 2021 vorrei che per 10 milioni di Lombardi e poi per tutti gli italiani fosse l'anno della ripartenza. Insomma in Lombardia c'era bisogno di una registrata. C'era bisogno di correre, di tornare a correre, ma non per i litigi sulle poltrone come quelle fra Conte e Renzi perché noi mettiamo linfa nuova e energia nuova. Dicevo, lei si vaccinerà? Quando arriverà il mio turno farò quello che mi dirà il mio medico. Se il mio medico mi dirà Matteo vai tranquillo, io andrò tranquillo, mi sono sempre vaccinato nella vita. Io ritengo che sia importante informare, educare, spiegare, salvare, mai obbligare, mai costringere Paolo. Io non sono mai per l'obbligo e per la costrizione. Ma non gliel'ha già chiesto al medico? No, ho 47 anni, grazie a Dio, sono in buona salute. Prima di me ci sono decine di milioni di italiani che hanno più di me di vaccinarsi. E ora questo lei lo dice perché se io ne ho più di 60 e quindi me lo sta dicendo apposta. Allora facciamo... No, no, no. Sei più in forma tu di me. Sì, 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 ciao. Intanto glielo chiedo a me, io me lo faccio il vaccino, il medico lo faccio da me stesso, lei faccia come vuole. Senta, ogni tanto manda messaggio al Presidente Conte, le risponde o no? No, è da quasi un mese che non mi risponde, ha detto questo... Ma non risponde a cosa? Ma no, ma mi spieghi, ha sms, ha mail, lettere scritte a mano, che fai? No, Whatsapp, Whatsapp. 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 E non risponde. Whatsapp, siamo nell'era moderna. Non risponde. Quindi io gli mandai un messaggio, erano i primi di dicembre, in cui dicendo abbiamo tante proposte sulla salute, sui pacili, sui lavoro, sulle cartelle. Sì, me lo ricordo, ma ora non le risponde. Guarda, rientro da... era il 10 dicembre. Mi disse, rientro da Bruxelles, controllo l'agenda e ci vediamo. E si vede che c'è un'agenda fitta fitta. Senta un po' cosa da dirle Nicola fratto gli anni di Leu. Prego. Onorevole, secondo lei il governo Conte che voi appoggiave, che fine farà? Ma io spero che il governo Conte continui a lavorare, continui a lavorare, rilanci la sua azione. Abbiamo bisogno di un governo che dia stabilità e che affronti questo gigantesco grattacielo che abbiamo di fronte, che è la campagna vaccinale. Ma lei se lo immagina un governo di scopo, penso a Salvini, penso alla Meloni, governerebbe con loro? Beh, non so che cosa serve, non è una questione pregiudizievole o ideologica. Il punto è che credo che con questa destra, con la destra di Matteo Salvini, Giorgia Meloni, le differenze siano talmente grandi da non consentire l'ipotesi di un governo di tutti, perché quel governo sarebbe ancora più paralizzato. Salvini è uno di quelli che in questi mesi avrebbe aperto tutto, chiuso tutto, aperto tutto e chiuso tutto. Dio ci scampi dal fatto che siano loro a governare il paese in un momento così difficile. Sulla scuola c'è poco da fare, bisogna aprirla il prima possibile. Dico soprattutto a quei governatori che rinviano l'apertura, se la rinviate, come ha giustamente detto il Ministro Boccia, rinviate anche le altre attività, non è accettabile chiedere, come fa Matteo Salvini, che si aprano le piste da sci subito e poi magari i suoi governatori rinviano l'apertura delle scuole. Caro Salvini, in questi anni hai dimostrato qual è il volto della destra che rappresenti, il volto di una destra che è fortissima con i più deboli, ma debolissima con i più forti. Difendi sempre i grandi interessi, in nome del popolo difendi gli interessi che col popolo non hanno niente a che vedere. Dovresti forse vergognarti un po' delle scelte che hai fatto in questi anni, prendersela con i più deboli, con gli ultimi, tra gli ultimi, non è un buon servizio alla politica, neanche a quell'etica cristiana che spesso rivendichi con il rosario in mano. Più serietà. Con la serietà si può fare qualcosa di utile per il paese. Che dice Salvini? Lascio giudicare a chi ci guarda. Questo signore è al governo. Questo signore è al governo e ha passato il tempo a insultarmi. Io in questi minuti ho cercato di parlare di disabili che vanno tutelati e vaccinati e vanno reinseriti a scuola prima degli altri e se le scuole sono chiuse non è colpa di Salvini, di Zaia, di Fontana che sono brutti e cattivi. è perché c'è un ministro che si chiama Azzolina che evidentemente non è in grado di garantire la salute di 8 milioni di studenti e di 1 milione di insegnanti. Detto questo non rispondo agli insulti. Se mi contesta il signore di estrema sinistra il fatto che io avessi azzerato gli sbarchi di immigrati clandestini la qualcosa mi costa un ennesimo processo sabato mattina a Palermo io andrò in quel tribunale a testa alta perché gli italiani mi pagavano lo stipendio da ministro per contrastare i trafficanti di esseri umani se io fossi al governo in questo momento mi occuperei meno di chiacchiere e più di tasse e di lavoro. Tasse e lavoro vuol dire tenere in vita quota 100 perché alzare l'età pensionabile di due anni per i lavoratori italiani in difficoltà è un pensiero folle questo sta pensando la cosiddetta sinistra di aumentare di due anni la vita lavorativa per portare come minimo a 64 anni l'età per andare in pensione quando ci sono donne e uomini davanti al televisore che non sanno se il mese prossimo avranno ancora un negozio una partita IVA o un posto di lavoro seconda proposta concreta che già abbiamo fatto quando eravamo al governo e rifarei domani mattina se tornassi al governo rottamazione dei 30 milioni di cartelle esattoriali che sono in partenza e rischiano di rovinare la vita agli italiani mi dica una cosa questo governo qui dura o no? ah dovreste chiederlo a Conte, Renzi a Di Maio e a Zingaretti che è due mesi che vanno avanti con questo squallido io mi auguro di no io mi auguro di no perché se ci fosse un governo che fa cose che io non condivido ma che portano avanti l'Italia mi rassegnerei il problema è che questo governo è bloccato su tutto sulla scuola sulla giustizia sul lavoro ci sono 700 cantieri Paolo pronti a partire domani mattina già finanziati dall'alta velocità alla gronda di Genova le strade in Sicilia fermi perché PD e 5 Stelle Renzi e Conte litigano su tutto ora se passate il tempo a litigare fatevi da parte noi siamo pronti al governo ci siamo stati abbiamo già dimostrato che noi facciamo ma mettiamo una cosa mettiamo che non trovino un accordo magari vanno al Senato chiede la fiducia Conte non gliela danno perché Renzi si tira via davvero poi sarà tutto da vedere perché poi bisogna vedere quel che uno dice quel che uno fa ma insomma mettiamo e a certo punto tutto torna nelle mani di Sergio Mattarella presidente della Repubblica e Mattarella dice no ora non è il momento di elezioni perché in Italia non è mai il momento di elezioni si sa perché il covid c'era anche in America e le elezioni le hanno fatte c'era anche da altre parti le elezioni le hanno fatte ma insomma qui no si cambiano i governi in Israele e c'è il covid qui c'è un problema non ci possono fare le elezioni vabbè ma lasciamo perdere questo ma mettiamo che dicesse fate un governo per tirare avanti l'Italia tipo istituzionale lei ci starebbe dentro o no? fatto salvo che come hai detto giustamente tu si vota in tante parti del mondo dall'Olanda a Israele agli Stati Uniti e a proposito degli Stati Uniti è notorio che se io fossi stato americano avrei votato per i repubblicani per i conservatori per Trump però le scene che abbiamo visto nelle ultime ore sono impensabili incredibili per la più grande democrazia del mondo perché la violenza non è mai la risposta e non è mai la soluzione ma lì Trump ha sbagliato per incitare sto dicendo che la violenza non è mai la risposta non è mai la soluzione questo a Washington perché sono scene indegne di una grande democrazia che però vadano a fare le pulci agli americani i cinesi che a proposito di vaccini sono coloro che hanno infettato il mondo che hanno contagiato il mondo che sterminano migliaia di persone con la pena di morte hanno poco da insegnare che mettono in galera giornalisti e oppositori ecco farsi fare la morale sui diritti umani e sulla democrazia dalla dittatura sanguinaria e comunista cinese è veramente fuori dal mondo detto questo visto che nel mondo si vota perché no in Italia ricordo che la Cina sta facendo di tutto per evitare che parta la commissione dell'OMS Organizzazione Mondiale della Sanità per indagare sull'origine del covid ma di questo poi ne parliamo magari dopo la pubblicità Salvini rimane con noi però in risposta alla tua domanda noi saremmo pronti domani noi a mettere in piedi un governo basato sul fare sul merito sull'impresa sulle partite IVA sul lavoro sullo sviluppo sulle grandi infrastrutture sulla valorizzazione dei rifiuti sull'alta velocità noi saremmo pronti domani mattina ma solo il centrodestra? un governo a guida centrodestra che possa raccogliere la disponibilità di altre persone che condividono la nostra idea non di un paese impaurito e assistito ma di un paese che corre che cura che costruisce però a guida centrodestra beh io al governo onestamente col signore che hai mandato in onda prima o col PD o con i signori degli sbarchi e della droga libera io al governo con questa gente avrei poco a che fare ovviamente c'è un po' di pubblicità quindi un po' di fatturato e poi torniamo con Salvini a parlare di un altro po' di cose da tra poco prego lunedì cosa facciamo? siamo chiusi siamo aperti siamo in ferie per sempre chi lo sa questi sono seppie questi sono polip che serviranno per i nostri antipasti se qualcuno ci chiamerà cioè questo rischiamo di buttare tutto certo zone rosse che diventano gialle che si trasformano però in arancione durante il weekend e dal lunedì che colore sarà la vostra regione l'incertezza del governo sul colore delle regioni spesso una decisione presa all'ultimo minuto mette in difficoltà cittadini e imprese noi siamo qui e questo è il Po giusto? questo è il Po nell'arco di 150 metri si toccano tre regioni probabilmente questa sarà rossa e queste altre due gialle non si sa perché non c'è la certezza assoluta in base a disposizioni governative il governo ancora non ha deciso se il Veneto sarà rosso l'unica certezza che abbiamo è il coprifuoco il governo dovrebbe decidere qualche giorno prima anche qualche settimana prima per organizzarci anche le clienti mi chiedono posso venire è zona rossa è zona gialla che colore è e diventa anche molto difficile la gestione degli appuntamenti è una cosa ridicola che la nostra categoria delle estetiste paragonata fino all'altro ieri a quella dei parrucchieri adesso i parrucchieri possono rimanere aperti mentre i centri estetici no queste sono seppie queste sono polip che serviranno per i nostri antipasti se qualcuno ci chiamerà cioè questo rischiamo di buttare tutto ma parliamo di centinaia di euro certamente eh sì una spesa di questo livello siamo sempre dai 500 ai 1000 euro la spesa è quella lì e non sai se li consumerai lunedì cosa facciamo siamo chiusi siamo aperti siamo in ferie per sempre chi lo sa ma vi conviene tenere aperta l'attività è una bella domanda ci stiamo pensando il servizio era di Gian Maria Pica senta Salvini non è facile certamente trovare la ricetta giusta ma non c'è dubbio alcuno che l'incertezza è la medicina più sbagliata allora in Italia governa il governo o sto comitato tecnico scientifico lei ha capito come funziona ma guardi purtroppo siamo passati da delle scelte su basi scientifiche zona gialla zona arancione zona rossa nell'ultimo periodo a scelte su basi politiche per accontentare Boccia Speranza Renzi Lazzolina ora un conto è chiedere agli italiani il rispetto di regole su basi scientifiche un conto è dividere gli italiani in base alla simpatia che hanno per Conte Renzi Di Maio Lazzolina questa è una follia le faccio degli esempi concreti di come alcuni paesi europei affrontano il problema con largo anticipo come dicevano gli intervistati quello che è inaccettabile l'improvvisazione il ministro Boccia che dice sulla riapertura delle scuole possiamo avvisare i presidi gli insegnanti e le famiglie un giorno prima ma è una follia non puoi rimettere in moto la macchina della scuola dell'università un ristorante un'azienda un negozio deve fare delle scorte deve prendere del personale non puoi avvisarle 24 ore prima in Gran Bretagna Paolo a Londra che il primo gennaio è uscita dall'Unione Europea non hanno l'euro sono fuori dall'Unione Europea ci hanno raccontato che sarebbe stato il disastro danno fino a 18.000 euro in contanti sul conto corrente agli imprenditori ai professionisti in base ai guadagni mancati rispetto all'anno scorso quindi questa è una scelta seria ti chiudo il negozio ti chiudo la palestra ti chiudo l'azienda ma ti do l'80% del mancato guadagno dell'anno scorso ora chi è davanti al televisore si sente dire io per due mesi sto chiuso il governo non mi garantisce dei prestiti ma mi dà a fondo perduto sul conto corrente in tre tranche l'80% del guadagno dell'anno scorso e allora sto tranquillo sai cosa c'è in manovra economica Paolo perché io me la son letta hanno messo il bonus occhiali il bonus occhiali se hai un ISEE inferiore a 10.000 euro puoi avere lo scontro sugli occhiali e hanno messo il bonus telefonino cioè se hai un ISEE inferiore a 20.000 euro hai per un anno il telefonino con l'abbonamento telefonico e due giornali non so perché l'abbonamento a due giornali gratis ora secondo te che ha problemi di lavoro di salute e di famiglia è lì che aspetta il telefonino e il paio d'occhiali da sole o aspetta dei rimborsi concreti in base al mancato fatturato dell'anno scorso ma questi rimborsi sarebbero possibili e questa è la grande differenza tra Italia e Inghilterra ma questi rimborsi sarebbero possibili ci sono i soldi oppure sono spesi male non arrivano quelli dell'Europa qual è il problema di trovare più ristori perché non arrivano fino ad oggi dall'inizio dell'epidemia il governo italiano ha speso circa 130 miliardi Paolo 130 miliardi fra cui ad esempio 500 milioni il signore che avevi prima in collegamento per i banchi con le rotelle è chiaro che se fai il bonus monopattini il bonus biciclette il bonus telefonino il bonus giornali il bonus occhiali e fai spese varie ed eventuali invece di investire nelle imprese nelle aziende delle famiglie guarda quello che hanno fatto gli altri paesi europei i soldi dell'Europa facciamo una grande chiarezza Paolo non perché sono il segretario della Lega del primo partito italiano sono scettico i soldi dell'Europa sono in gran parte soldi a prestito quindi che dovremo restituire che arriveranno non prima di metà di questo 2021 quindi tutti gli altri paesi dalla Spagna alla Grecia hanno messo dei soldi loro se il governo emettesse domani e può farlo a normativa vigente buoni del tesoro destinati ai risparmiatori italiani per 100 miliardi a scadenza trentennale non dovremmo aspettare la Germania la Francia l'Europa avremmo i soldi che ci danno gli italiani per ricostruire il nostro paese è possibile farlo domani mattina altro che mess o soldi che forse arriveranno senta a Bormio ho la mia collega Francesca Carollo che dov'è dov'è fatemela vedere eccola là Francesca in colori sgargianti vedo allora Francesca con chi sei lì a Bormio allora Paolo guarda io sono qui con i rappresentanti del mondo del turismo e dello sci di Bormio una località importantissima che è martoriata però da questo periodo terribile Barbara è la rappresentante degli albergatori ecco per voi è tutta un'incertezza un on e un off sì io sono molto arrabbiata per queste continue decisioni dell'ultimo momento per noi sono praticamente ingestibile questa apertura a singhiozzo noi non possiamo assolutamente aprire l'hotel a giornate noi abbiamo bisogno di programmazione abbiamo bisogno di organizzazione abbiamo bisogno di poter organizzare i nostri dipendenti per tutta la stagione abbiamo bisogno di date certe ma soprattutto di medio e lungo termine soprattutto se vogliamo salvare la stagione in corso quanto avete perso di fatturato? beh adesso dipende dalle strutture comunque l'80% sicuramente di presenze sono mancate durante l'anno 2020 e i ristori sono stati sicuramente inadeguati imbarazzanti abbiamo preso uno e ci chiedono di pagare cinque è praticamente ingestibile noi abbiamo bisogno di ristori concreti che commisurati realmente alle perdite che abbiamo avuto durante il 2020 anzi nel 2021 i nostri governatori dovrebbero già pensare a come fare i ristori durante il 2021 di cui avremmo sicuramente bisogno e poi abbiamo Paolo i maestri di sci una categoria importantissima qui abbiamo Roberto e Nicolò e pensa che loro si sentono presi in giro non lavorano da 11 mesi loro ragazzi non guadagnano assolutamente da 10 mesi che noi praticamente siamo fermi abbiamo una struttura di praticamente 20 maestri di sci a quel punto lì sono senza stipendio e nello stesso tempo non abbiamo nessun ristoro a oggi non abbiamo nessuna data non possiamo dare una certezza ai nostri figli ma soprattutto se non aprono gli impianti che sono l'arte primaria per la montagna noi siamo alla canna del gas e le banche con voi? le banche purtroppo ultimamente hanno dato delle notizie sconcertanti sono scusate il termine degli strozzini legalizzati per quale motivo? a oggi se uno va fuori appena appena non viene assolutamente data la possibilità del lavoro e noi abbiamo anticipato anche l'Europa ci si è messa anche l'Europa con una norma ulteriormente restrittiva torno dall'onorevole Salvini e poi comunque rimanete con noi che dopo li siamo con voi Francesca ancora per un collegamento Grazie Paolo Salvini ha sentito cosa dicono questi operatori in una località così importante tanto a lei cara come la Valtellina? Ci sono stato tutti i capodanni fino all'anno scorso quest'anno ovviamente sono rimasto a Roma per rispettare le regole ho incontrato ieri i rappresentanti dei maestri di sci italiani che sono 15.000 e lo sci lo dico anche al parlamentare di sinistra che parlava della montagna e dello sci come una roba da snob da ricchi sono centinaia di migliaia di posti di lavoro che sulle montagne italiane dalla Lombardia alla Calabria riguarda famiglie che campano di quello non è qualche ragazzo viziato che vuole andare a Campiglio a Cortino a Curmaior con la tavola da snob sono centinaia di migliaia di posti di lavoro di gente che si fa un mazzo così che nonostante le proposte della Lega e del centrodestra sono escluse dai rimborsi dai ristori come troppi liberi professionisti e partite IVA qual è la nostra proposta Paolo dove troviamo i soldi visto che non si può venire in diretta su Rete4 dicendo diamo soldi a tutti i famosi 30 milioni di cartelle esattoriali che sono centinaia di miliardi di euro che lo Stato non incasserà mai perché mettiti nei panni di qualcuno che è davanti al televisione che ha una cartella da 10 mila euro non stiamo parlando degli evasori milionari dei fantasmi del fisco con otto ville stiamo parlando di cartelle esattoriali da 10-15 mila euro di gente che non ce la fa se lo Stato chiedesse a quelle persone togliendo le more gli interessi e le sanzioni il 30% di quella cartella esattoriale lo Stato porta in cassa 100 miliardi di euro libera questi milioni di italiani da questa angoscia e i 100 miliardi li metti nelle imprese nelle partite IVA nei liberi professionisti non è un'operazione vantaggiosa secondo te portare a casa il 30% di quelle cartelle e reinserirle nel tessuto economico perché se non aiuti le imprese non vai da nessuna parte questa è la vostra proposta? assolutamente sì è un'altra vergogna Paolo io so che tu vai spesso in periferia e sei una delle poche trasmissioni che si occupano di periferie e di case il governo ha prorogato il blocco degli sfratti che non riguarda solo coloro che non ce la fanno a pagare l'affitto per il covid ma riguarda anche gente che non paga volontariamente l'affitto da 1, 2, 3, 4 anni a dei poveri italiani che hanno come reddito solo quell'affitto che non incassano e su cui pagano le tasse quindi garantire di non essere in mezzo a una strada a una mamma con un bimbo piccolo è sacrosanto ma bloccare tutti gli sfratti significa truffare 4 milioni di italiani che in media con quell'affitto portano a casa 7 mila euro all'anno è esproprio della proprietà privata non siamo in Venezuela non siamo a Cuba non siamo in Unione Sovietica non è possibile espropriare la proprietà privata e far pagare a 4 milioni di italiani le tasse su un affitto che non incassano mi dice una cosa Salvini noi per il vaccino siamo legati da una parte a Pfizer e ora a Moderna ora l'ho detto anche ad Arcuri la Germania la tanto europeista Merkel a un certo punto ha acquistato 30 milioni di vaccini fuori dal patto europeo e ora sta facendo l'accordo con Putin per svilupparne degli altri perché si fida tanto dell'Europa che li compra fuori dall'Europa allora noi nel caso in cui non arrivino stiamo lì dentro il patto europeo aspettando che arrivino o sarà il caso l'ho chiesto da Arcuri lo chiedo anche a lei che magari uno alza la testa e dice c'è qualcuno che mi vende il vaccino nel frattempo lo compro così lo do agli italiani che mi sembra più importante che tenere al patto europeo non la salute degli italiani guarda io l'avrei già fatto Paolo perché prima viene la salute degli italiani prima viene il lavoro degli italiani rispetto a una norma europea io non me la prendo con i tedeschi il governo tedesco fa l'interesse dei cittadini tedeschi perché chi se la prende con la Merkel se loro infrangono le regole per aiutare la salute dei loro cittadini fanno bene siamo noi che se domani l'Europa ci dice chiudiamo dritto e rovescio chiudiamo rete 4 e mandiamo Paolo Del Debbio al confine in Cina ci sarebbe in Italia qualcuno che siccome ce lo chiede l'Europa manderebbe Paolo Del Debbio in galera in Cina no se l'Europa mi chiede di fare qualcosa di utile lo faccio ma ti faccio un esempio di queste ore se l'Europa firma un accordo commerciale con la Cina che massacra gli agricoltori italiani e gli imprenditori italiani io non ci sto quindi fanno bene i tedeschi a prendere dei vaccini fuori continente e io non vorrei che anche su questo arrivassimo in ritardo anche perché l'avrei chiesto al commissario Arcuri come diamine hanno fatto a mandare centinaia di migliaia di siringhe sbagliate negli ospedali di mezza Italia ora se fosse in un'azienda privata sarebbe già stato licenziato il signor Arcuri mi ha chiesto e mi ha detto che praticamente lui le ha mandate e possono essere utilizzate al contrario di quello che hanno detto gli operatori sanitari perché è così quindi Arcuri ha ragione e i medici hanno torto è quello che gli ho detto io e lui ha continuato a sostenere questa tesi va bene ognuno dice quello che vuole poi naturalmente da casa giudicheranno senta dal punto di vista dei ristori perché qui c'è gente che non è con l'acqua alla gola è già fallita tecnicamente io ho incontrato persone che stanno tirando proprio per dignità ma insomma grosso modo pensano di chiudere e non sono pochi ora che succede quando scatta il blocco dei licenziamenti cioè quando termina il blocco dei licenziamenti in Italia che succede? ma infatti è di questo che vorrei parlare col signor Conte se avesse voglia e tempo di incontrarci e di ascoltarci ne abbiamo parlato con gli imprenditori con i commercianti con gli artigiani con i consulenti del lavoro il primo aprile si rischia un disastro a meno che non arrivino soldi veri alle imprese ripeto sul modello inglese e sul modello tedesco anche americano un'altra proposta abbiamo fatto per il momento inascoltati le banche prima parlavate di banche tu sai Paolo che le banche non possono dare neanche un euro di fido o di prestito a coloro che sono stati segnalati in passato che sono in ritardo con una rata del mutuo o che hanno una ricevuta bancaria non pagata questa è una follia le banche visto che hanno una garanzia dello Stato cioè hanno una garanzia dei cittadini devono non dico possono devono prestare dei soldi anche e soprattutto a coloro che hanno avuto difficoltà economiche perché l'assurdo di oggi Paolo è che le banche prestano i soldi a coloro che non ne hanno bisogno e non prestano i soldi a coloro che sono in difficoltà ora un governo serio chiama a Palazzo Chigi le banche e gli dice signori miei noi vi abbiamo dato miliardi di euro e tanti vantaggi negli anni passati adesso è venuto il momento che voi aiutiate chi ha bisogno non è possibile che se hai avuto un protesto una rata del mutuo non pagata tu per le banche sei un fantasma e non esisti altrimenti veramente rischiamo di fare la fine degli Stati Uniti sì gli Stati Uniti per la verità mettendo quei mille miliardi hanno dato moltissimi soldi alle aziende perché mantengano il livello occupazionale cioè mantengano le persone che hanno e non licenzino quindi non hanno detto non hanno bloccato i licenziamenti hanno dato i soldi perché non sia licenziata la gente è diverso assolutamente se Paolo magari l'hai già fatto lo farai inviterai il presidente dei costruttori italiani il presidente di Ance ti dice che domani senza nuove leggi e senza chiedere i soldi all'Europa se il governo sblocca i 700 cantieri fermi in Italia 700 dalla gronda di Genova all'alta velocità ci sono 100.000 posti di lavoro e 70 miliardi di opere già finanziate pronte a partire domani domani e sono cantieri fermi perché PD e 5 Stelle litigano dimmi te se in un momento come questo l'Italia può aspettare la fine dei litigi fra PD e 5 Stelle non è possibile lo inviterò quando lo smonta l'albero di Natale Salvini vedo che ancora c'ha le palle attaccate le palle finché stanno sull'albero le palle stanno al loro posto il problema è quando cadono dall'albero però allora poi se mi ci porta lei e lei con me si va sullo scivolo lo sa sono toscano va bene grazie Salvini buona serata un abbraccio e buon lavoro e buona fortuna a tutti le tenga attaccate all'albero mi raccomando pubblicità